1 Buonasera Mastorbo Sentite ragazzi Allora Il ciuffo ormai è andato via Quindi oggi siamo nella prima stagione di episodio 3 Di come ripolcare una donna in ogni situazione Allora ragazzi Se non avete un bel ciuffo ormai Come un bel vecchio minuto Ma siete belli e fichi E fichi di nobile donna e di nobile padre Voi non dovete dire nessuna parola Dovete andare vicino alla ragazza E molto semplicemente Aspettate Se non c'è lo porto a fuori Ci facciate per i soldi o salai E che lo è venito così apre come il casello Per andare a Napoli Guarda guarda Ora facciamo un esempio con la mia assistente Caga che è la Con che è la A una vale soldi Vabbè ragazzi di solito Se volete bagnare dovete aprire le gambe Però in questo caso non è successo Perché con gli uomini non funziona Si rompono Quindi ragazzi Mi raccomando Passate sul mio canale Per trovare altre immagini di questo genere Il link è in descrizione E vi trovate a cercare di Milano Tutte le sere Un bacio Scusate per il masturbo